Signor Gianni, lei è il tecnico. Prima di passare alle domande tecniche, come si sente nell'aver realizzato quest'opera che può decidere a lei quanto è ampia, è grande e quanti ragazzi può ospitare? Come mi sento, chiaramente c'è una soddisfazione personale, ma non come singolo, ma come facente parte di una comunità. Questo progetto è arrivato dopo diversi anni di studio, anche di soluzioni diverse. Quindi l'abbiamo vissuta e costruita insieme al parroco e insieme alla comunità, per cui mi sento soddisfatto e speranzoso di aver costruito qualcosa di buono e di positivo per tutta la comunità di Unica Pastorale Santa Famiglia di Nazza. Che ospiterà questo oratorio? Quanti ragazzi può riuscire ad ospitare? Allora, potenzialmente molti ragazzi, diciamo, perché le aule sono grosse e abbondanti. Il salone può contenere 150 persone circa, insomma, più ci sono le aule che sono predisposte per circa 30 ragazzi ad aula. Che sono le aule? Abbiamo sei aule che possono diventare nove, grazie a delle pareti mobili che sono state predisposte per dividere in due alcune aule per dare una versatilità maggiore a tutta la struttura. Quindi c'è una bella capienza, è una struttura importante e direi polivalente, diciamo. Lei mi accendava prima nella visita a dei sistemi anche per quanto riguarda l'ambito del risparmio energetico, che è l'avanguardia. Sì, abbiamo cercato di rimanere negli standard elevati da questo punto di vista, perché oramai siamo nei tempi giusti per poterlo fare. Abbiamo energia prodotta con le fonti rinnovabili, quindi abbiamo 10 kW di pianto fotovoltaico nella copertura. Abbiamo un impianto efficiente, perché è costituito da pompa di calore, riscaldamento e raffrescamento estivo a pavimento. E oltre questo direi che anche un buon impianto, diciamo, di illuminazione, perché abbiamo comunque, questo grazie anche alle ditte che ci hanno dato una mano negli appalti a ottimizzare le cose, abbiamo un impianto di illuminazione completamente a LED, per cui bassi consumi energetici e grossa efficienza dell'impianto. Poi c'è da dire che da un punto di vista impiantistico abbiamo anche cercato di garantire la massima sicurezza per i ragazzi e per tutte le persone che, diciamo, vivranno questi luoghi. Infatti la struttura sarà unita di certificato di prevenzione incendi, oltre ovviamente alla natura antisismica, che come sappiamo tutte le strutture moderne devono avere, però questa in particolare ha qualcosa in più, perché la categoria d'uso per cui è stata progettata è tra le più elevate, per cui garantisce una sicurezza passiva veramente molto elevata.